Perché scegliere un'auto a noleggio a lungo termine? Vediamo insieme quali sono i vantaggi. Ciao, sono Angela Pierro, coordinatrice della sezione RENT della Maldarizzi Automotive SPA. Da anni mi occupo di consulenze per aziende e privati, per offrire mobilità e soluzioni su misura, tutto in un'unica rata mensile. Grazie a Maldarizzi RENT puoi accedere ad un parco auto multibrand, come ad esempio Mercedes, BMW, Audi, Opel, Jeep, scegliendo l'auto che preferisci ad un canone conveniente che include RCA, casco, furto incendio, manutenzione ordinare straordinaria, soccorso stradale 24 ore su 24. Perché il noleggio a lungo termine è sempre più scelto dai nostri clienti? Perché con un canone mensile fisso tutti i servizi sono inclusi. Perché non dovrai preoccuparti della manutenzione straordinaria o ordinaria e potrai scegliere se usufruire di un servizio di auto sostitutiva e cambio gomme. Perché potrai dire addio a scadenze e gestioni amministrative. Ci pensiamo noi. Perché se sei titolare di partita IVA o hai un'azienda, potrai godere di benefici fiscali. Ci stai ancora pensando? Unisciti ai nostri clienti. Scegli Maldarizzi RENT.